Al via, nella giornata di ieri, i lavori di efficientemente energetico degli impianti di pubblica illuminazione presenti nelle contrade di Torre di Mare e Licinella Capaccio Pessum. Si tratta di un intervento finanziato per 130.000 euro, che servirà da modernare gli impianti in via Nettuno, via Torre di Mare, via Torre di Pessum, via Hermes, via Urano, via Anfitrite, via Paolo Uccello, nella bretella via Nettuno e nella villa comunale. I vecchi corpi illuminanti ormai obsoleti saranno sostituiti con nuovi corpi illuminanti in tecnologia LED, fatto sapere il sindaco di Capaccio Pessum e presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Con questo ennesimo intervento, ha proseguito il primo cittadino, non solo miglioriamo la qualità dell'illuminazione pubblica, ma otteniamo un risparmio di energia e quindi dei costi a carico del Comune. Prosegue dunque la politica dell'amministrazione capoaccese per ciò che concerne gli impianti di pubblica illuminazione. Valla pena ricordare infatti che nel marzo scorso ne sono stati inaugurati alcuni, in zone che precedentemente ne erano sprovviste, come alcuni tratti alla Laura ed a Gromola. In quella circostanza la prima illuminazione ha riguardato precisamente via Vasca di Colmata, in località Laura, via Queglia, in località Gromola ed anche un tratto di strada da Licinella, vale a dire via Vittorio Alfieri. Anche per questa fattispecie i nuovi impianti di pubblica illuminazione, che si vanno ad aggiungere agli interventi di efficientamento e agli impianti già realizzati ex novo, sono costituiti da pali con corpi illuminanti a tecnologia LED. Efficientare gli impianti esistenti e realizzare impianti nelle strade che non erano sguarnite è stata una delle nostre priorità. Illuminare una strada infatti significa renderla più sicura, sia per chi la percorre in termini di sicurezza stradale, sia per chi ci vive, in termini di prevenzione di fenomeni di violenza e di furti di auto o nelle abitazioni, aveva asserito il sindaco Alfieri. Gli impianti LED offrono vantaggi in termini di efficienza energetica, maggiore durata e una qualità della luce superiore, rendendo le strade più sicure e piacevoli. Resulta sempre più rilevante per le amministrazioni comunali la necessità di investire in tecnologie che non solo migliorano la vita quotidiana dei cittadini, ma che si allineano anche con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Quest'iniziativa è parte di un progetto più ampio di riqualificazione urbana e di attenzione all'ecologia, in linea con le tendenze moderne di Smart City che invidino a rendere i centri abitati più vivibili e sostenibili. Proprio a proposito di riqualificazione urbana, il Camune è beneficiario di un fondo di 5,5 milioni di euro del PNRR per ciò che concerne l'area tra il Cafasso e Capaccio Scano, per degli interventi che non riguardano solo la pubblica illuminazione, ma anche l'arredo urbano, con la riqualificazione delle aree verdi e la costruzione per ciò che riguarda il Cafasso di una nuova piazza di fronte alla chiesa.